Ciao a tutti, oggi vi volevo presentare un canale sul YouTube dove potete imparare molte cose sulla cultura italiana e anche su molte cose in italiano, principalmente un po' di grammatica e alcune parole che sono le parole che si usano nel lavoro o nella vita di ogni giorno. Questo canale si chiama AnimaSoul, io volevo ringraziarti di fare i video per noi stranieri che imparano l'italiano e io mi presento un pochino perché tu hai domandato che noi facciamo una presentazione e io ho deciso di fare tutto in italiano perché è la lingua che sto imparando. Quindi io mi chiamo Felix, abito in Belgio, io sono nato e sono cresciuto in Belgio quindi si può dire che la mia madrelingua è il francese perché si usa ogni giorno il francese ma io sono anche andato nella scuola fiaminga e parlo entrambe le lingue. A casa mia si parla un dialetto cinese e ti volevo dire un po' la mia storia con l'italiano e dopo ti parlo un po' del tuo canale. Bene, un giorno come ho detto nei video nel passato che io sono andato in Asia nel mio paese Taiwan e lì avevo incontrato degli italiani che non parlavano per niente le altre lingue che io parlavo e quindi io ho provato di parlare con loro in spagnolo però ma loro non parlano per niente lo spagnolo e come lo spagnolo è molto lontano dall'italiano è vero che il portoghese è più vicino allo spagnolo quindi quando noi parliamo con i brasiliani è più facile di capirci ma con l'italiano non era possibile e quindi quando sono tornato del viaggio mi sono detto oh io voglio imparare l'italiano ho comprato un libro che si chiama Assimil e che era benissimo e io ho preso questo libro ho cominciato a studiare l'italiano durante più o meno 4 mesi e dopo sono andato nell'università nella mia università dove ho incontrato un sacco di persone che vengono dall'Italia e loro vengono di Rimini, Bari, anche dell'isola che si chiama Elba e io ho davvero avuto una motivazione molto grande quando loro mi hanno aiutato un sacco mi hanno insegnato un sacco di cose e come io sto imparando quasi ogni giorno l'altro giorno stavo lavorando come un lavoro di studente e lì avevo incontrato un amico italiano e lui mi ha insegnato un sacco di cose per esempio che si dice non me ne frega niente nel tuo video ho scoperto che si può anche dire così così non devi dire niente puoi fare così e vuol dire non me ne frega niente o è schifo io non sapevo cosa vuol dire voleva dire e come io stavo vicino alla commissione europea ho potuto ascoltare molti italiani che lo parlano è davvero una lingua davvero dolce molto dolce per questo avevo deciso la mia più grande ispirazione per imparare l'italiano era Laura Pausini perché lei ha cantato nelle sue canzoni non so è davvero per me era una bellezza indescrivibile per questo volevo capire tutto io già parlavo lo spagnolo e il francese quindi potevo capire più o meno la mezza della canzone ma io volevo capire quasi tutto della canzone e dopo ho ascoltato un sacco di volte questa canzone questa canzone che si chiama non so il treno delle 730 senza lui un cuore di metallo senza l'anima eccetera eccetera e io avevo la motivazione di studiare la tua madrelingua e dopo quando ho incontrato un sacco di italiani ho avuto ancora di più la motivazione di imparare di più l'italiano adesso ti volevo felicitare per il tuo canale davvero davvero benissimo perché io non ho mai visto un canale dove le persone ti insegnano l'espressione italiane e questo è molto molto interessante per me quello che non mi piace molto è che non c'è un video dove parli soltanto in italiano vorrei che sia possibile per te fare due gruppi di video diversi uno dove parli, spieghi le cose in inglese l'altro per le altre persone che già parlano l'italiano e che vogliono ascoltare tutto in italiano senza l'interferenza diciamo dell'inglese per tutto spiegare tutto potresti anche spiegare in italiano così noi possiamo migliorare la nostra conoscenza è davvero per noi è davvero un piacere di poter guardare la cultura italiana quello che succede, quello che capita in Italia dove vai nei negozi che nei negozi ovviamente loro parlano soltanto l'italiano quindi era un piacere per me guardare i video che fai e dopo mi hai dato la motivazione ancora di più per imparare l'italiano e cosa volevo dire anche io ho comprato un sacco di libri per studiare l'italiano questo libro che avevo mostrato nel mio video nel passato è un libro per ragazzine di 10 anni ma come il mio italiano non è così buono devo imparare un sacco di cose e ti volevo chiedere se potessi fare un video dove mi spieghi un po' come funziona in italiano mi spieghi in italiano come funziona il cognuntivo e anche il condizionale perché io ho dei problemi non ho mai imparato la grammatica italiana quindi se è possibile per te fare un video dove spieghi in italiano come funziona il cognuntivo e il condizionale e anche come funziona il plurale irregolare come hai detto un labbro due labbra o qualcosa così per me sembra un po' strano perché un labbro due labri per me sarebbe più logico ma io so che è irregolare quindi se potessi fare un video dove spieghi un po' come funziona il plurale irregolare e anche il cognuntivo e il condizionale e cosa volevo dire? ah io sto imparando l'italiano con i fumetti che mi ha prestato il mio amico italiano è davvero interessantissimo e purtroppo fino adesso non sono mai andato in Italia ho soltanto avuto l'opportunità di praticare l'italiano qui vicino alla mia casa nell'ufficio, nell'università e davvero è un piacere di conoscere ah ho dimenticato di dire qualcosa hai dimenticato questo nel tuo video con non so come si chiama gestures in italiano hai dimenticato questo e hai dimenticato magari anche questo che sono un sacco di cose che i miei amici italiani mi hanno insegnato quando io stavo parlando con loro ed è espressione che si usa quasi ogni giorno come schifo, non me ne frega niente delle cose così se potessi fare un video anche dove spieghi un po' l'espressione che usano i giovani quasi ogni giorno e niente volevo anche ringraziarti per gli sforzi che fai per fare un video io so che prende molto tempo e anche se potessi fare dei video soltanto in italiano per noi sarebbe perfetto grazie mille e ci vediamo nel prossimo video io farò molte video risposte a video risposte penso ai tuoi video perché mi piace da pazzi guardare i tuoi video grazie mille e arrivederci